Un evento prevalentemente gastronomico ma anche culturale e artistico che vuole aiutare e donare un Natale degno ai bambini di Don Massimo Ghezzi. Il progetto Abitiamo, particolarmente noto, dedicato alle persone senza fissa dimora. Non solo, con i fondi che raccoglieremo in questo grande evento, noi contiamo anche di partecipare all'acquisto di un defibrillatore e di un manichino interattivo indispensabile per i corsi salvavita di primo soccorso che porta avanti Luigi Nunziata, fondatore delle Fate di Arianna. Il tutto è concentrato appunto in questo grande evento che si svolgerà alla baita del Re Resort del patrono Nunzio Illuminato ad Ottaviano il giorno 9 dicembre. Dalle ore 15 in poi avremo i mercatini solidali, avremo una serie di eventi appunto artistici, culturali eccetera. E poi dalle 19 ci sarà prima l'aperitivo e poi la cena servita a tavola con questo grandissimo spettacolo con tantissimi artisti solidali. I nomi sono talmente tanti che penso che non basterebbe un quarto d'ora per nominarli tutti. Possiamo soltanto anticiparvi che brinderemo con lo chef pluristellato del territorio ad apertura di Taverna Estia, che è Francesco Sposito, mentre concluderemo con l'altro stellato che è Alfonso Caputo, notissimo di Nerano, della Taverna del Capitano. Ci sarà il presidente di Scepoli del Scoffier, Nicola Di Filippo, l'associazione più importante al mondo degli chef, 40.000 iscritti. Ci sarà la sciabolatrice, maestra di sciabola e donna di grande immagine direttamente da Ciao Darwin, Paola Fiorentino. Ci sarà il Ciro Torlo, che è il modello italiano e napoletano in particolare più famoso al mondo, in particolare negli Stati Uniti. Ci sarà Gennaro De Crescenzo, ci sarà Celentano, ci sarà Giuseppe Gambi, il tenore del Papa, che ha dedicato anche una canzone al nostro splendido Napoli, la nostra squadra, nonché alla pizza. Ci saranno pizzeri di eccellenza, campioni mondiali di pizza a metà, di pizza in pala, rappresentanti come Paolo Sulace Mattozzi di una tradizione ultracentenaria. Non so più che dirvi, sono tanti. Siamo arrivati su internet, oppure su Facebook, Instagram e vedere la locandina dell'evento, la Baita del Re Resort Ottaviano, 9 dicembre.